Dopo un importante intervento di riqualificazione è stato inaugurato questa mattina il Parco Franchi di Giuliano Valido. Circa 100.000 euro di fondi comunali per rendere ancora più fruibile l'area verde dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con l'installazione di giochi dedicati e diversamente abili, capaci quindi di garantire momenti di condivisione tra tutti i frequentatori. La soddisfazione dell'assessore Giorgini, condelega tra l'altro al verde pubblico. Un intervento atteso dalla cittadinanza, programmato dall'amministrazione già da tempo. Il Parco aveva bisogno di un restyling, era purtroppo malmesso e quindi oggi sono la soddisfazione dei nostri bimbi che vediamo alle nostre spalle. Godersi questo galeone e il verde che c'è intorno. Un intervento che ha sfiorato i 100.000 euro sotto l'aspetto economico. Avete deciso di lavorare su questi spazi nel periodo estivo per farli trovare pronti durante il periodo autunnale, quando poi si riapriranno le scuole. Esattamente, così noi abbiamo la fortuna di avere questa bellissima città di mare, quindi i nostri ragazzi possono godere della spiaggia e dei giochi che abbiamo in spiaggia. Abbiamo scelto di fare durante l'estate proprio per avere il parco pronto a settembre con la riapertura dell'anno scolastico. Assessore, l'ultima curiosità, ovviamente lei si occupa anche e soprattutto del verde pubblico e allora le chiedo, ci saranno anche altri interventi? Ci sono anche altre zone qui a Giulianova che hanno bisogno e necessitano di miglioramenti e di restyling, come l'ha chiamata lei? Assolutamente sì, in città c'è da fare sempre tanto. Quello che abbiamo ereditato era in una condizione, era e tuttora, in alcune zone vetusta. Stiamo programmando degli interventi in un parco Giulianova Alta e il parco Cerasari, non ci fermiamo con la manutenzione del verde verticale anche per l'incolumità della cittadinanza, quindi con piani di potatura e nuovi impianti di verde, si continua a lavorare sempre. Giulianova quindi che non vuole fermarsi sotto l'aspetto della riqualificazione urbana a favore della tutela del verde pubblico, il tutto accompagnato dagli ottimi risultati raggiunti in questa stagione estiva, che ha regalato sorrisi non solo ai più piccoli, ma soprattutto agli operatori turistici del comprensorio.